Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Sandra Milo ci ha lasciato all'età di 90 anni, spegnendosi nella tranquillità della sua casa, circondata dall'affetto dei suoi cari, come aveva desiderato. La notizia è stata annunciata dalla famiglia Sandrocchia, nome affettuoso con cui era stato soprannominato da Federico Fellini, il regista per il quale è stata una musa e una delle attrici più celebri del cinema italiano. Oggi, il 29 gennaio 2024, Sandra Milo è deceduta. L'attrice, che aveva festeggiato il suo novantesimo compleanno l'11 marzo dell'anno precedente, ha lasciato questo mondo senza che siano state specificate le esatte cause della sua morte. Tuttavia, è probabile che siano connesse alla sua avanzata età. Il suo passaggio è avvenuto nella sua abitazione, circondata dall'affetto dei suoi cari, in accordo con i suoi desideri. La carriera di Sandra Milo è stata lunga e illustre, collaborando con grandi registi come Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Sergio Corbucci, Federico Fellini, Luigi Zampa, Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Abati, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino. Oltre alle sue conquiste cinematografiche, ha vissuto amori, ha generato figli e ha lasciato il suo segno anche nel mondo della televisione. La sua memoria vivrà attraverso il suo straordinario contributo all'arte e al cinema italiano.